AAAAAAAH! Mangia puttana! Mangia puttana! Mangia puttana! Andatela fuori! La ne si si! Siii! Allora è questa la fiducia, la forza del settimo universo. AAAAAH! 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 No, 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 no. Ma sei un folle! No, io non ne sarei così sicuro. Disgregazione. Solo attacco? Com'è possibile? Pensi che la giustizia sia la sola cosa che conti? Ma nessuno distruggerà mai la nostra voglia di vivere! Adesso basta! Un mortale che si oppone! Un mortale che si oppone alla mia giustizia! Non è mai importato a nessuno della tua folle giustizia! Non è possibile! Non è possibile! No, no, lasciatemi spiegare. No, no, non capite. Non volevo dire. Non lo... Non... Grazie a tutti.